buongiorno oggi vi portiamo in giro con la 3179 il tram teatro un mezzo unico nel suo genere come vedete la fiancata è apribile e diventa un palco il tram è una motrice serie 3000 del 1958 rimodernata nel 1977 ecco adesso saliamo a bordo e vi mostro la parete che diventa all'occorrenza palco intanto stiamo partendo da piazza castello e ci avviamo verso via pietromicca il tram fino a qualche anno fa era gestito dall'associazione di tramvieri e la città in seguito è stato ceduto alla TTS e adesso speriamo di utilizzarlo presto nella sua funzione originaria quindi portandoci sopra degli spettacoli teatrali e perché no come abbiamo fatto in occasione del trolley festival del 2019 anche una mostra di modellismo una panoramica sulla cabina di guida seguite sempre gli aggiornamenti sui nostri canali sul sito internet www.atts.to.it e sulle pagine dei social network ogni weekend in questo periodo facciamo uscire un tram diverso potete venire a trovarci in piazza castello e noi vi raccontiamo la storia del tram e